Ho visto molte partite della Fiorentina nello scorso anno, all'inizio della stagione era semplicemente fantastica ed era arrivata addirittura una classifica. Giocava un buon calcio, sentivo parlare molto della Fiorentina e di Sousa che aveva portato qualcosa di nuovo a Firenze e a questa squadra. Conosco Sousa come coach perché è stato allenatore del marcabile Tel Aviv e della Basilea ed è un grande allenatore, è un allenatore adatto ad un grande club come questo perché si occupa di tutti gli aspetti del campo.